I residenti di Carrara tornano sul piede di guerra per i rumori provenienti dalla stazione elettrica che sorge nelle campagne della frazione. Nonostante gli incontri con il gestore Terna e il comune e gli interventi eseguiti fanno sapere alcuni cittadini, ad oggi il rumore è tornato nuovamente, come si può sentire da questo video registrato alcuni giorni fa. Il problema principale è il rumore che non si è fermato da quando hanno fatto i lavori per insonorizzare. Abbiamo degli stop, delle tregue, ma il rumore continua e ci sono dei momenti che è veramente forte e non siamo ascoltati veramente da nessuno, ne abbiamo provate veramente tutte, ma non siamo ascoltati da nessuno e non osiamo pensare quando ci sarà l'ampliamento della centrale. Come potete vedere qui è un paradiso, stanno rovinando, stanno rovinando completamente. Noi abbiamo scelto questo posto perché veramente ci piace questo posto, ma questa cosa veramente ci distrugge e ci crea dei grossissimi problemi. E soprattutto oltre al danno acustico, anche il danno fisico, perché abbiamo questi tralicci molto molto vicini alle abitazioni. La notte è impossibile dormire anche a finestra chiusa, comunque sia ne va anche della salute psichica, a questo punto è una rimessa in tutti i campi della vita, ecco una cosa abbastanza intollerabile. In tutto questo nessuno ci ha mai dato una risposta o un aiuto concreto e quindi chiediamo solo di essere ascoltati. E mentre i cittadini chiedono dove sia il sindaco in tutta questa vicenda, c'è anche chi nel raggio di 1500 metri sente questo simbilo in sottofondo, come questa residente che abita al confine tra Cucurano e Carrara. La scelta migliore, ha detto, è quella di spostare altrove la centrale elettrica. Io tramite mio marito ho riditato una casa vicina alla Carrara e sento, stando sempre a un chilometro e mezzo, sento comunque il rumore anch'io. Ma la cosa che chiedevo è molto importante perché comunque il progresso è giusto che vada avanti, ma non si può fare che questo tubo che collegano loro dal mare si possa allungare un pochettino per stare comunque in una zona isolata. Perché comunque anche se noi fanno l'ampliamento della centrale, vanno a prendere anche Ponte Murello, vanno a prendere Lucrezia, sono tutti centri abitati. Una cosa diventa una bomba ecologica, penso, perché comunque se noi lo sentiamo così poco, cioè non tanto, comunque le persone che stanno più attaccate lo sento molto di più, però a livello, questi elettrodotti che passano, cosa fanno? Ci hanno mai detto qualcosa? Più di quello? Anche l'ARPA? Non lo so che cosa ha. Non ci hanno dato niente a noi, quindi noi chiediamo questo, si può fare questa centrale dal momento che appunto il progresso va avanti? Si può fare leggermente spostate in una zona dove non c'è nessuno? Questo, perché so che comunque ci sono dei soldi, sono state stanziate tante cose. Questo, che comunque ai cittadini venga detto una cosa del genere, venga aiutato perché ci sono tante abitazioni qua vicino. Venga assicurata la salute.